Il medico risponde, diamo un buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Numero verde 800 640 771 oppure per le vostre domande via WhatsApp 347 67 66 291. Professor Bassetti, partiamo oggi dai batteri resistenti. Facciamo il punto anche in occasione proprio di questo incontro che si è tenuto. Sì, noi abbiamo avuto questo appuntamento annuale che si chiama Ten Hot Topics, cioè i temi caldi delle malattie effettive e indubbiamente è coinciso con l'allarme proveniente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità relativamente al gonococco resistente agli antibiotici. Che cos'è il gonococco? Il gonococco è un germe che causa infezioni sessualmente trasmesse molto diffuse. La gonorrea è una malattia molto nota, anche molto vecchia in qualche modo. Purtroppo questo gonococco è diventato resistente sia all'azitromicina, che è il farmaco con cui oggi si curano buona parte delle infezioni sessualmente trasmesse, che ha i fluoroquinolonici, tra cui la ciprofloxacina, che anche alceflexone, che sono gli antibiotici che praticamente vengono utilizzati per la cura di queste infezioni. Quindi in pratica esistono dei gonococchi che sono resistenti a tutti gli antibiotici. Quindi fondamentalmente cosa vuol dire resistenti a tutti gli antibiotici? Vuol dire che quel germe non è più possibile trattarlo, curarlo, cioè ucciderlo in qualche modo, che è lo scopo della terapia antibiotica. E quindi l'infezione continua a proliferare, evidentemente continua a crescere e naturalmente questo pone un problema, non solo per il gonococco, ma per tutti gli altri batteri resistenti agli antibiotici, quelli che causano le cistiti, quelli che causano le infezioni della pelle, quelli che causano le infezioni dell'addome, della pancia, quelli che causano infezioni nella gola, nei polmoni. Quindi fondamentalmente tutti i germi ormai purtroppo sono diventati o stanno diventando resistenti agli antibiotici e pongono un grande problema. Qual è il grande problema? Primo, che la gente non può continuare a girarsi dall'altra parte. Quindi una tirata di orecchie pesante ai miei colleghi che continuano ad utilizzare gli antibiotici con troppa leggerezza. Primo, una tirata di orecchie pesante a tutte quelle persone che usano gli antibiotici senza seguire le indicazioni dei medici e quindi gli è avanzata una scatoletta di antibiotico in casa e lo prendono senza sentire il medico. Vanno in farmacia e mettono in qualche modo, pregano il farmacista di dargli l'antibiotico dicendo me l'avevi già dato. Una tirata di orecchie dove si utilizzano ancora gli antibiotici in veterinaria, una tirata di orecchie dove si utilizzano ancora in agricoltura, cioè fondamentalmente ci vuole. una chiamata forte a tutti perché si ritorni o si inizi a utilizzare meglio questi farmaci perché se no finiremo in epoca pre-antibiotica. Cosa vuol dire? Che si tornerà a morire di infezioni che oggi sono trattabili con delle terapie antibiotiche. Perché le do solo un numero Tiziana così i cittadini capiscono di cosa stiamo parlando. La resistenza agli antibiotici causa in Italia ogni anno tra 40 e 50 mila morti, tra chi muore in ospedale e chi muore fuori dall'ospedale. In pratica è come se ogni anno noi avessimo un Covid del 2020 che ci arrivasse, che è sicuramente il Covid del 2020 che ci ha fatto abbastanza, che è sicuramente il Covid del 2020. Però lei, voi, molti infettivologi, sono anni che ne parlate. Come mai sembra che questo appello, che questo vostro allarme, diciamo così, non sia ascoltato, Professor Bassetti? Insomma, 40-50 mila morti in Italia all'anno non sono mica pochi, sono un'enormità. Perché su questo tema non si è fatto abbastanza. Non ha fatto abbastanza il governo centrale, non hanno probabilmente fatto abbastanza le regioni, non hanno fatto abbastanza i cittadini e quindi oggi siamo arrivati evidentemente in un imbuto. Perché nel passato cosa succedeva? C'era una resistenza e c'era un nuovo antibiotico. Perché c'era un grande entusiasmo da parte dell'industria farmaceutica a produrre nuovi antibiotici. Quindi uno diceva, vabbè, c'è una resistenza, non funziona più un vecchio antibiotico e ne usano un nuovo. Ecco, oggi nuovi antibiotici non ce ne sono più. C'è un grande problema nella ricerca di nuovi antibiotici. Le aziende, le grandi aziende farmaceutiche non investono più negli antibiotici e quindi è evidente che oggi più di ieri bisogna prendere, come si suole dire, il toro per le corna. Non si può più continuare a, come diceva mia nonna, a ciurrare il manico. Senta, professore Bassetti, perché non si investe più? Perché non ci sono più antibiotici? Perché questa è una cosa difficile, credo, da comprendere per la maggior parte delle persone. No? Ebbè, ci sono le industrie farmaceutiche e se non funziona questo ne fanno un altro, si dice. Perché le industrie farmaceutiche non sono opere pie, le industrie farmaceutiche sono solo società per azioni e quindi oggi investire negli antibiotici non rende. Cioè, tu investi un dollaro in un nuovo antibiotico e indietro te ne torna meno di uno. Cioè, quindi, in pratica, non ci sono investimenti in questo settore. Oggi le industrie farmaceutiche preferiscono investire nell'oncologia, preferiscono investire nelle malattie croniche, nelle malattie autoimmuni, nelle malattie reumatologiche, nelle malattie ematologiche, non si investe più in questo settore, purtroppo bisognerebbe che gli Stati facessero di più per incentivare nuovi investimenti. Oggi la situazione è questa, di cui ai prossimi dieci anni ci saranno infezioni purtroppo intrattabili, incurabili, ingestibili e potenzialmente mortali, perché non ci sono armi per curarle. Quindi è un problema che riguarda tutti, evidentemente. Perché un'infezione da batteri resistenti si può prendere in ospedale, ma si può prendere anche a casa propria, senza andare in ospedale, perché c'è un'infezione urinaria, una cistite, un'infezione della pelle. Questi batteri sono ovunque ormai, non sono più soltanto relegati nell'ambito ospedaliero. Senta, Professor Bassetti, le faccio quest'ultima domanda, ne abbiamo parlato già diverse volte, però proprio per chiudere questo argomento. Ci può rispiegare perché a un certo punto l'utilizzo di tanti antibiotici ha fatto sì che quindi crescesse questa resistenza agli antibiotici? Allora funziona così, un antibiotico che viene utilizzato nel momento in cui noi lo prendiamo, automaticamente il batterio inizia a conoscerlo. Cosa vuol dire inizia a conoscerlo? È un po' come il veleno del serpente, fondamentalmente te ne dò poco, 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 poi sempre di più, sempre di più, finché quando il serpente ti morde non muori più di quel veleno. E così succede con gli antibiotici. I batteri imparano a conoscerli, diventano maggiormente tolleranti e quindi progressivamente più si utilizzano e più quell'antibiotico smette di funzionare. Allora qual è il problema? Uno dice ma io non ho mai preso un antibiotico, perché dovrei avere una resistenza agli antibiotici? Perché i batteri resistenti circolano nell'ambiente, sono nelle acque reflue, sono nella carne, sono nella verdura, sono sulle mani della gente che noi salutiamo, sono nella gola, nel retto, nell'intestino di tante persone. Quindi è un problema globale, è un problema della comunità. Quando qualcuno prende male gli antibiotici non fa soltanto del male a se stesso, o magari a se stesso non lo fa, ma la fa alla comunità in cui vive. Quindi è un egoismo bruttissimo quello di riempirsi di antibiotici, è un egoismo bruttissimo quello dei medici che li prescrivono quando non servono, perché è un modo di fare male non solo a quel paziente a cui lo dai, ma fai male alla comunità in cui quel paziente vive. Quindi bisogna cercare di cambiare la testa anche dei medici, che purtroppo sono tra i primi responsabili della incorretta prescrizione degli antibiotici. In conclusione, quando serve prendere l'antibiotico? L'antibiotico serve quando c'è un'infezione batterica, quindi basterebbe saper dire di no in cinque situazioni. Proviamo a dirle? Il raffreddore comune, mai antibiotici per un'infezione virale. Nelle bronchiti acute, quando anche diceva c'è la bronchite più dell'antibiotico, no, per la stragrande maggioranza sono virali, salvo in qualche situazione in cui il paziente può avere, il soggetto può avere qualche altra problematica. Nell'influenza, mai antibiotici nell'influenza, nel covid. Mai antibiotici nel covid. Quindi pensate quante sono le situazioni in cui l'antibiotico non andrebbe utilizzato. E nella monorucleosi, per esempio, che è un'altra infezione virale dove si usano purtroppo antibiotici sbagliando. Quindi diciamo che se sapessimo già dire di no in queste situazioni, faremmo una cosa importante. L'altra cosa è che se li devo prendere per un'infezione batterica documentata e certa, li devo prendere bene al dosaggio che mi hanno dato, per la durata che mi è stata prescritta, col ritmo di somministrazione che mi è stato prescritto. Se devo prendere un antibiotico ogni otto ore, cioè alle otto, alle quattro e a mezzanotte, non è che posso dire, vabbè, guarda, siccome vado a lavorare alle otto e torno a casa alle cinque pomeriggio di piglio, la mattina prima di uscire e poi li prendono quando torno alla sera. No, non si fa così. Così si fanno diventare resistenti evidentemente i batteri. Quindi c'è bisogno di tanta cultura. Bisogna insegnare queste cose nelle scuole. Bisogna insegnarle nelle associazioni. Bisogna parlarne con le persone più anziare. Bisogna insegnare ai medici perché purtroppo sono molti quelli che non hanno minima idea di che cosa siano questi concetti. Quindi credo che ci sia un lavoro profondo, che io credo è venuto l'altro giorno a questo convegno Francesco Baia. Io sono in collegamento ovviamente col Ministro della Salute perché è un tema da sempre a me caro, alla società che io presiedo. Quindi dobbiamo essere tutti uniti nel combattere contro le resistenze. Diciamo una cosa finale. Genova su questo tema è, possiamo dire, una delle capitali del mondo della ricerca su questo tema. La produzione scientifica della clinica che io mi onoro di dirigere è tra le migliori cinque al mondo. Al mondo, non in Italia, al mondo. Cioè noi studiamo questo fenomeno e lo studiamo da tantissimi anni. Io l'ho studiato quando ero qui a Genova, poi l'abbiamo studiato a Udine, adesso lo ristudiamo a Genova, abbiamo un centro di altissimo livello sull'argomento. Dobbiamo cercare, soprattutto anche in questa regione, di dare un segnale importante di essere anche su questo argomento tra quelli che per primi lavorano per ridurre la diffusione delle resistenze. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono io. Sì, è lei, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere al dottor Bassetti, io sono dal 92 una malattia autoimmuno, sento che ne parlava prima, autoimmuno del sangue, praticamente ho a piazzina penina di origine autoimmune. Già ancora stamattina devo venire per la seconda terapia, solite immunoglobuline, eccetera, perché mi sono arrivato alle piazzine a mille o se no 5.000. Però volevo dire, mi chiedono tutte le volte se ho preso mica, quando mi vengono queste cose, se ho preso antibiotici. Io in questo momento ho solo preso un collineo perché ho fatto la catarata il 28 di maggio, che è antibiotico dopo. Però ho sentito che Primo parlava che potrebbe anche... L'antibiotico noi lo prendiamo, non so, dalle verdure, da tutto. Io potrei... La mia vita praticamente deve essere soggetta anche a questo tipo di cose. Perché due mesi fa ho avuto questo, diciamo, la ricaduta. Adesso di nuovo. Però sono anni e anni che fa. Cioè, vuole sapere se ci potrebbe essere una correlazione con gli antibiotici, visto che le fanno questa domanda. Grazie. Allora, il problema è questo. Molto probabilmente gli domandano... Ok. Molto probabilmente, credo che gli venga chiesto da parte dei colleghi, immagino, se ha preso antibiotici perché possono in qualche modo avere degli effetti potenzialmente collaterali, abbassare le piastrine o quant'altro, una situazione come quella. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Siamo parlando che non è che con la carne e con le piante noi prendiamo degli antibiotici. No, con la carne ci possono arrivare dei batteri resistenti agli antibiotici. Sono una cosa completamente diversa. Non c'entra assolutamente nulla. Per dire che questo è l'ecosistema dell'antibiotico che riguarda non solo gli esseri umani, ma riguarda anche gli animali, riguarda il mondo vegetale. Quindi il signor Mario può ricevere in qualche modo un batterio resistente da tante parti, no? Quindi non solo da quello che può avere dentro di sé perché ha preso un antibiotico, ma lo può ricevere, come abbiamo detto prima, dal fatto di mangiare una bistecca o manipolare in qualche modo un pollo, da mangiare delle verdure magari non lavate adeguatamente, oppure toccando delle superfici, oppure danno la mano a qualcuno o addirittura dal naso o dalla bocca di qualcun altro. Quindi questa è la modalità attraverso la quale noi possiamo acquisire dei batteri resistenti agli antibiotici. Ora sottolineo una cosa, ma la sottolineo anche lei. Tutto questo discorso che lei sta facendo e che sta facendo il professor Bassetti, telespettatori, non significa che stiamo stigmatizzando gli antibiotici, ma solo dicendo che vanno usati solo quando serve, solo quando ce lo dice il medico, solo in casi particolari e vanno presi bene seguendo le indicazioni. Giusto, professore? Ma certo, ma si figuri lei se io stigmatizzo gli antibiotici da sempre. No, no, ma sai, meglio ripeterlo. Il problema è che dobbiamo stigmatizzare l'uso improprio di antibiotici, che purtroppo è molto frequente. Gli antibiotici sono scambiati spesso per farmaci diversi, antipiretici, lo prendi perché hai la febbre. Ma perché la febbre? Ma spiegatemi la ragione per cui dopo due giorni di febbre io devo prendere l'antibiotico. L'antibiotico funziona sui batteri, quindi la febbre può essere legata a un virus, può essere legata a un problema diverso, può essere legata a un tumore, può essere legata a un altro... Allora, spiegatemi la ragione per la quale dopo due giorni uno deve prendere l'antibiotico. C'è scritto da qualche parte, cioè lo raccomanda qualcuno? No, è solo un problema fondamentalmente di usare la pancia e non usare la testa. Noi dobbiamo dire, soprattutto ai medici, ma anche ai pazienti, che bisogna con gli antibiotici usare testa e non pancia. Professore, forse è passato, diciamo così, nel sentire comune, dico io, faccio l'avvocato del diavolo, questa cosa che se io prendo l'antibiotico mi passa prima. È vero o no? Assolutamente no, anzi, esattamente il contrario. Se prendi l'antibiotico quando non serve, ti viene di più, perché ti vengono altri problemi, diversi e più grandi. Basta vedere, le ho appena dati i numeri, 50.000 morti, mi pare che sia un numero abbastanza importante, no? 50, 40, 50.000 morti ogni anno per i danni fatti dall'utilizzo improprio degli antibiotici, mi sembra che siano numeri impressionanti. Assolutamente. Pronto, buongiorno? Pronto? Sì, prego signora. Volevo parlare con il professor Bassetti. Allora, io sono stata appunto da una gecca, visto che si parla di antibiotici, volevo sapere, non me ne sono accorta subito, sinceramente. Dopo due o tre giorni, poi, va bene, me l'hanno tolta, e poi mi è venuta anche la febbre. Ora non so, e avevo anche un po' di mal di gola, non so se la cosa è correlata o no. E poi il dottore mi ha dato gli antibiotici, appunto. È giusto? Guardi signora, le dico questo. Nell'ambito delle punture delle zecche, dare l'antibiotico to cure, cioè a tutti quelli che vengono amoressicati da una zecca, è sbagliato. Non è raccomandato da nessuna raccomandazione al mondo. Dopodiché, se uno viene punto da una zecca, la toglie male. Dopo qualche giorno gli viene un esante, ma con una classico quadro rosso rotondeggiante, in più alla febbre, in più a degli altri sintomi, allora nel sospetto che possa avere la malattia di Lyme o altre malattie trasmesse dalle zecche, si prescrive un antibiotico. Ma non è che lo prescrivi e dire te lo do in profilassi, che magari potresti avere una malattia di Lyme. Quello è un errore clamoroso che non va fatto, e chi lo fa sbaglia, e se lo fa un collega sbaglia ancora di più, perché va contro le linee guida, tra l'altro, linee guida del Ministero della Salute, a cui tutti ci dovremmo attenere, anzi, linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, linee guida delle società scientifiche internazionali. La medicina ormai non si può che si può fare, ma io faccio così, perché no, la medicina la fai seguendo quella che è la medicina delle evidenze, quella che sono le linee guida. E nella puntura di zecca, ahimè, oggi in Italia, non è prevista la prescrizione di un antibiotico, a meno che, dopo essere stati punti da una zecca, uno abbia dei sintomi compatibili con una malattia di Lyme. Allora, Roberto scrive, vorrei chiedere gentilmente quanto segue. Tramite urinocultura con antibiogramma mi è stato scoperto a fine maggio il batterio Clebsiella pneumonie, che sto curando con Ciproxin 500. Vorrei sapere, per sapere di essere guarito, esiste solo urinocultura o anche un esame specifico? Grazie. Allora, guardi, questa è una bellissima domanda. Quando uno ha un'infezione virinale, una cistite, un altro quadro, e la Clebsiella pneumonie è uno dei germi insieme alle schericchia coli più frequenti in causa di queste infezioni, in genere, si dovrebbe guardare a se uno ha avuto un miglioramento clinico. Cioè, se lui aveva bruciore a fare la pipì, la febbre, magari andava frequentemente in bagno e non ha più bruciore, non ha più la febbre, si può considerare clinicamente guarito. Dopodiché, si può anche, in alcune situazioni particolari, non tutte, ripetere un urinocultura per vedere che sia negativizzata. Noi, normalmente, devo dire che nella maggioranza delle infezioni urinarie semplici, non lo facciamo. Cioè, ci basiamo sulla guarigione clinica. Cioè, il paziente non ha più sintomi, l'esame delle urine è migliorato e quindi inutile neanche andare poi a ripetere l'urinocultura. L'ultima telefonata, pronto, buongiorno. Parla con me? Sì, parlo con lei. Ricordatevi sempre di togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo fuori tardi. Scusi, scusi, hai ragione, hai ragione. Tranquilla. Buongiorno. Allora, mi chiamo Adelida Marassi. Allora, intanto vengo nel carugio del dottor Robassetti. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, il discorso è questo. Io ho una cistite praticamente cronica da dopo che sono andata in menopausa. Niente, succede questo. Dal principio mi avevano giusto consigliato gli antibiotici. Ero andata avanti per un anno con questi cavolo di antibiotici e non mi avevano fatto assolutamente niente. Cioè, lì per lì sembrava che andasse tutto bene e dopo 15 giorni avevo di nuovo la cistite. L'urologo è stato il primo che mi ha detto no, antibiotici, assolutamente no. Piuttosto, al limite, se proprio non riesce, l'unico è il furadantin perché non crea resistenza. E in effetti così ho cominciato a fare. E mi sono praticamente diciamo un po' coperta con la fitoterapia. Lo so che si metterà a ridere però con l'uvo orsina io sono sono riuscita almeno a periodi lunghi, più lunghi a non avere la 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 malgrantia in fase acuta per intenderci. E niente, volevo chiederle se secondo lei faccio bene a fare così perché poi ogni tanto mi torna per fortuna non in maniera grave come mi succedeva prima perché poi tra l'altro prima mi veniva sempre con il sangue con il sangue ok vediamo cosa dice il professor Bassetti grazie guardi purtroppo le infezioni delle urinarie come quelle che ci ha descritto la signora sono una delle cause di utilizzo più improprio degli antibiotici spesso i medici consigliano addirittura di fare profilassi continuative fate 5-7 giorni al mese tutti i mesi così evitate ecco questo è il modo migliore per far venire i batteri resistenti ed è un errore che non va fatto quello di dare continuativamente antibiotici profilassi quindi la signora ha fatto benissimo è bravo è stato il suo urologo a dire che gli antibiotici non servono a prevenire ci sono strumenti diversi ora la signora fa la fitoterapia ma voglio dire ci sono altre possibilità integratori alimentari il succo di mirtillo il succo di ribes tante situazioni che servono ad acidificare le urine e quindi a far sì che in qualche modo ci sia meno possibilità di avere infezioni delle 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 virularie quindi attenzione nelle infezioni delle virularie perché è una delle situazioni in cui oggi noi vediamo più facilmente i batteri resistenti e guardate che quando poi avete una cistite per colpa di aver utilizzato male gli antibiotici e vi viene un batterio resistente non ci sono più possibilità terapeutiche in pastiglie e si deve essere ricoverati in ospedale e magari poi viene fuori un batterio resistente anche agli antibiotici che abbiamo in ospedale e poi cosa si fa quando poi ti viene una sepsi o una setticemia con un batterio resistente a tutti gli antibiotici lo sapete cosa succede si arriva ad avere delle situazioni molto complicate e c'è qualcuno che purtroppo muore pure quindi se si parte bene magari si arriva anche meglio e quindi questo è un messaggio da dare alle persone ma anche da dare a molti miei colleghi grazie grazie al professor Matteo Bassetti buona giornata e buon lavoro grazie a lei arrivederci arrivederci